Ci sono anche due giovani pugliesi fra coloro che a Palazzo Belgioioso a Milano hanno ricevuto il master di primo livello in strategie per il business dello sport, fra i primi 30 al mondo per importanza, un corso di alta formazione nato da un'idea di Verde Sport Gruppo Benetton in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. E così dopo le lauree ad onore per gli special guest, fra cui l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta, era lo stesso presidente del CONI Giovanni Malagò a consegnare pergamene quanto mai di valore, se è vero come ha sottolineato lo stesso Malagò che in questi tempi di crisi una preparazione di carattere sportivo, in particolare in ambienti come quelli del canottaggio e del rugby, favorisce un più facile inserimento nei quadri della grande industria. Questo è un percorso che riuscivo a coniugare i miei interessi, quindi la mia laurea in economia, quindi il management e il business e lo sport che ho sempre praticato fin da piccolo, quindi mi consentiva appunto di associare il lavoro, la passione, il divertimento. C'è bisogno nel mondo dello sport di grandi competenze, io sono ingegnere gestionale, ho scelto di specializzarmi nel campo sportivo e quello che mi ha mosso principalmente è stata la passione per lo sport. Il mio sogno sarebbe tornare giù, quindi tornare a Bari, magari nel calcio, magari con la FC Bari 1908, quindi riuscire a entrare in quest'ambiente nel calcio che è sempre stata la mia passione fin da piccolo, nella mia città ovviamente. Sono un grande appassionato di calcio, quindi sicuramente la Bari. Grazie a tutti.